I nostri ricognitori hanno rilevato tre convogli di ricordimenti, diretti verso il luogo degli scavi. Non capisco perché non attacchiamo subito il luogo degli scavi. Ogni secondo che perdiamo, Duco si avvicina sempre più a quello che sta cercando. Abbi pazienza, mio giovane Panavan. Dobbiamo aspettare l'arrivo dei rinforzi. Ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Sentite, i ricognitori hanno trovato un ottimo luogo per un'imboscata. Se distruggeremo i convogli, aumenteremo di molto le nostre possibilità nella prossima battaglia. Fortunatamente abbiamo mantenuto l'elemento sorpresa. Andiamo. Era ora. Maestro, mi sono preso la libertà di modificare i controlli del vostro carro in modo che possiate dare ordini durante il combattimento. Basterà usare il pulsante direzionale. Ogni direzione corrisponde ad un diverso ordine. Ad esempio, se volete che attacchi quella torretta, premete su mentre il bersaglio è selezionato. Ricevuto. Grazie a tutti. Cambio il bersaglio. Attacco il bersaglio. Maestro, il primo convoglio è in arrivo. Lassù c'è un posto dove possiamo nasconderci. Non sanno che siamo qui. Possiamo attaccare ora. Ricevuto. Ottimo, maestro. Li coglieremo senza alcuna difesa. Attacco il bersaglio. Ricevuto. Ricevuto. Maestro, gli altri convogli si stanno dividendo. Ci hanno scoperto. Occupiamoci di loro prima che raggiungano i campi di forza. Cambio il bersaglio. Vi bene. Qua. Questi è già Спasso? Profetto. Ide sharp. Qui tibit? Si. Neg aromato. Cambio il bersaglio. Ricevuto. Ricevuto. Cambio il bersaglio. Ricevuto. Attacco il bersaglio. Cambio il bersaglio. Attacco il bersaglio. Ottima mira maestro. Ora dobbiamo trovare l'altro convoglio. Attacco il bersaglio. Attacco il bersaglio. Attacco il bersaglio. Paglio il bersaglio. Cambio il bersaglio. Attacco 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 il bersaglio. Signore, trasmissione in arrivo dal centro comando. I rinforzi sono arrivati. Bene, ora possiamo cominciare con il nostro assalto alla zona degli scavi. Grazie. Grazie.